Salve, sono il dottor Francesco Barone, sono un farmacista e da anni mi occupo di consulenza alimentare. Se stai guardando questo video è perché sei interessato al controllo del peso corporeo. Da anni ho sviluppato un mio metodo, il metodo Slim Packet, e ho aiutato centinaia di persone a raggiungere il loro peso di salute con un programma di dimagrimento. Il metodo Slim Packet è fondamentalmente basato su una consulenza alimentare continua, un giusto approccio alimentare e l'utilizzo di deintegratore. Oggi parleremo dell'approccio ketogenico. L'approccio alimentare ketogenico è quello che ho sviluppato nel tempo per delle categorie particolari di pazienti. Nando per il paziente in sovrappeso, l'obeso, che ha un'urgenza di perdere una massa importante di peso in breve tempo, o nel paziente che per sue necessità vuole in un periodo sempre ristretto, breve, uno step di 15 giorni fondamentalmente, ti perde comunque una massa importante. In cosa consiste l'approccio ketogenico? L'approccio alimentazione ketogenica in qualche modo mi riattiva il metabolismo e cosa più importante fa sì che il paziente, il metabolismo del paziente, possa divorare il grasso dall'interno. Ecco mi piace questo concetto, cioè utilizzare come fonte energetica il grasso viscerale. Ecco perché funziona l'approccio ketogenico, perché il paziente comunque si sente più tonico, più leggero, riattiviamo il metabolismo e soprattutto riusciamo a divorare proprio il grasso che è all'interno. Cosa di due step fondamentali, due settimane. Prima settimana primo step, seconda settimana secondo step. Mi avvalgo, utilizzo dei prodotti proteici, delle bustine che ho scelto appositamente, dove all'interno appunto c'è tutto un pool di vitamina, aminoacidi, proteine e la prima settimana proprio vado in sostituzione dei pasti utilizzando questi prodotti proteici. Il paziente da subito si sente più tonico, proprio dal punto di vista bioenergetico e già da subito il corpo comincia ad essere più asciutto e a utilizzare il grasso come fonte di energia. Il secondo step invece è proprio una fusione, cioè il paziente inizia lentamente di nuovo ad alimentarsi in maniera naturale, utilizzo in aggiunta un integratore, il chitosano e in più le bustine proteiche. In questo secondo step riusciamo come dire, abbiamo alzato l'asticella del metabolismo, abbiamo iniziato a divorare il grasso dall'interno, adesso blocchiamo su quel peso di salute il risultato ottenuto. La dieta chetogenica funziona, funziona scientificamente e funziona realmente. Se sei interessato all'approccio chetogenico, clicca sul link, chiedi la consulenza gratuita e continua a seguirmi. Grazie a tutti.